Passa anche attraverso un ricettario realizzato dagli studenti dell'Istituto Alberghiero di Pescara il progetto di promozione delle carni IGP di Dallone Bianco dell'Apenino Centrale e Agnello del Centro Italia portato avanti dalla regione e dall'Associazione Regionale Allevatore. I ragazzi della scuola infatti negli ultimi mesi hanno sperimentato una serie di preparazioni utilizzando queste carni che rappresentano una delle eccellenze della produzione zootecnica del territorio in cui sono coinvolte moltissime imprese medio-piccole impegnate da sempre nel mantenere alta la qualità. L'iniziativa rientra nel progetto gustevole che mira a far conoscere ai consumatori, ai ristoratori e agli operatori della grande distribuzione le caratteristiche di due carni bovine e ovine a marchio IGP e che ha finanziato con i fondi del nuovo piano di sviluppo rurale.